Correre, narrando a chi si incontra di sfuggita, la sorta compagnia dell'anima, il sentore dei giardini dietro la finestra, la sempreviva luce senza fuoco, la felicità promessa, data finalmente salva e senza causa di dolore all'occhio, che non serve più a vederla. Eppure dico, questa è l'inaudita voce, così come fu detta.